Volete capire cos'è questo strumento qua? Aspettate che ve lo dico. Ok, uno degli strumenti fondamentali per quanto riguarda la navigazione terrestre, soprattutto in campo militare, è un contapassi, che è questo strumento qua. È praticamente fatto da un lacciolo costituito da 9 perline nella parte inferiore, forate, vedete che possono scorrere, separate da un nodo e da altre 4 perline nella parte superiore. Con queste si indicano le centinaia di metri, con queste i chilometri percorsi. Quindi ogni 100 metri si abbassa una perlina, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, un chilometro. E riparto 100, 200, 300, 400, di nuovo 9, 2 chilometri e riparto fino a 4 chilometri, che diciamo che io mi trovo bene fino a 4 chilometri, utilizzo fino a 4 chilometri, oltre non lo utilizzo, magari potete farne anche di più, farne 4, 5, 6 perline per farne 6 chilometri. È uno strumento veramente importante per quanto riguarda la navigazione terrestre, che va affiancato a bussola e cartina. Ci permette di calcolare in maniera abbastanza precisa, abbastanza precisa, non precisa, perché è impossibile essere precisi con questi strumenti qui, i metri da seguire lungo la rotta e quindi il nostro percorso, e quindi la navigazione terrestre. In mancanza di un contapassi potete usufruire di alcune pietre, una manciata di pietre, 4 o 5 pietre, da alternare in una tasca o in un'altra. Ogni 100 metri alternate una pietra, la mettete in una tasca, dopo che avete fatto per esempio 500 metri li spostate nell'altra tasca, oppure potete fare addirittura, che ne sono magari, delle intacche, delle tacche su un pezzo di legno ogni 100 metri, una tacca 100 metri. Queste sono delle idee, per chi non ha un contapassi o non vuole farsi un contapassi. Io per semplicità lo utilizzo, se l'ho qui attaccato allo zaino, lo utilizzo quando calcolo la mia rotta. Ho visto video su internet in cui si dice praticamente che ogni 100 metri, ogni 100 passi facciamo 100 metri, non è assolutamente così, perché soprattutto in zone boschive, in zone montuose, il tutto dipende principalmente dal tipo di terreno, dal passo dell'operatore e dall'equipaggiamento che indossiamo. Quindi l'operazione fondamentale nell'utilizzo di un contapassi è il settarlo in maniera precisa, preventivamente, la nostra navigazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo sapere quanti passi facciamo con il nostro equipaggiamento nel tipo di terreno che andremo ad affrontare per fare i 100 metri. Come potete vedere qui ho una strada pianeggiante che io ho già calcolato con una corda lunga 100 metri, ho già calcolato i miei passi, ora vi mostrerò come ho fatto. In zone boschive affrontiamo discese, affrontiamo salite, affrontiamo zone pianeggianti ed è importante calcolare e settare il nostro contapassi in ogni tipo di terreno. Infine faremo una media di tutti questi tipi di terreno e calcoleremo il nostro passo nella media, perché come ho già detto, quando si affronta un trekking non sempre sia un terreno pianeggiante, ma affrontiamo salite, discese e terreni pianeggianti. Ok ragazzi, come potete vedere qui ho una zona pianeggiante, io ho già steso precedentemente una corda e ho segnato dove finiscono i 100 metri e quindi andrò a segnare i passi che faccio per percorrere questi 100 metri in piano con il mio equipaggiamento. I passi si contano ogni due, quindi considerate ad esempio che sono a destro, quindi ogni due passi, ogni volta che porto il destro avanti, conto un numero. quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 71. Ok, io per fare 100 metri ho fatto 71 passi, quindi li vado a segnare, settaggio contapassi a 100 metri, su terreno pianeggiante e zaino giornaliero, ho fatto 71 passi. Vado a fare la stessa procedura su terreno in discesa e in salita. Ok, io ho calcolato i passi in discesa, 100 metri in discesa, 100 metri in salita con il mio equipaggiamento e sono 79 in discesa e 69, sì, 79 in discesa e 69 in salita. Vado a scriverli sul mio block notice. Ok, in discesa, zaino giornaliero, 79 in salita, zaino giornaliero. Erano 70 passi, no 69. Ok, ora faccio la media di questi numeri, sommandoli e poi dividendoli per 3. Quindi sommati viene 220 diviso 3, ho un passo di 73,3 periodico. Quindi io so che il mio modo di camminare, contando ogni due passi, quindi ogni volta che porto la gamba destra avanti per me è un passo, come vi ho mostrato prima, so che ogni 73 passi faccio 100 metri. Questo è il mio passo, con il mio equipaggiamento. Ok ragazzi, questo è come settare un contapassi. Ripeto, è un'operazione fondamentale se si ha intenzione di contare i passi e di utilizzare un contapassi, perché altrimenti non riusciremo a calcolarci bene la nostra rotta e il nostro percorso e quanti metri avremmo percorso. Ok, questo è tutto il video, spero abbiate imparato qualcosa. Mi raccomando, studiate bene queste tecniche perché poi vi serviranno, perché farò un video finale per quanto riguarda l'argomento cartografia e topografia d'orientamento. Farò un video finale in cui mostrerò praticamente una prova pratica di navigazione terrestre in cui andrò ad applicare tutte queste tecniche che vi sto mostrando. Quindi se avete domande, fatemele. Mi raccomando, studiate perché la cartografia è importantissima, è anche una bellissima materia. E niente ragazzi, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Andrò a contare i passi che percorro a... Tante! Scusate, in termine, una caga da passetta. Tante!